10 consigli senza tempo per diventare un vincitore L'importanza di vincere Fin dall'inizio dei tempi, la società ha sempre lodato e applaudito i vincitori. Vincere è ed è diventato il fulcro della società e tutto ciò che facciamo ruota attorno a questa dinamica. Le ricompense della vittoria La vittoria ha un sapore molto dolce e ci sono molti vantaggi nel vincere, soprattutto in una società orientata alla competizione come la nostra. Vincendo Si diventa più popolari e di successo. Si riceve rispetto e ammirazione. Si possono ottenere determinati premi o vantaggi. Ci si sente meglio con se stessi. Migliorate la vostra fiducia in voi stessi. E l'elenco continua. Il punto principale è che vincere è una buona cosa e, a patto di non montarsi la testa, può essere molto fruttuoso e vantaggioso. Come diventare un vincitore Finalmente ci siamo. Questi 10 consigli aumenteranno sicuramente le vostre possibilità di vincita e vi trasformeranno in un vincitore. 1. Diventare orientati agli obiettivi Immaginate di provare a vincere una gara se non avete idea di dove andare, non è possibile. Gli obiettivi danno una direzione e la vittoria può avvenire solo se si ha in mente un obiettivo. Quindi, fare degli obiettivi una seconda natura e imparare a lavorare verso qualcosa piuttosto che lavorare senza meta. Molti si ostinano a perseguire la strada che hanno scelto, pochi a perseguire la meta. Friedrich Nietzsche 2. Assumersi la responsabilità Assumetevi la responsabilità di tutto ciò che fate nella vostra vita e non cercate scuse. I vincitori hanno il controllo di se stessi e ritengono di essere gli unici responsabili dei loro risultati. Non si può sfuggire alla responsabilità di domani evitandola oggi. Abramo Lincoln 3. Non avere paura del fallimento Non si può pensare di vincere senza aver mai affrontato un fallimento. L'insuccesso è una parte regolare della vita e bisogna imparare ad accettarlo. Quindi, invece di temere il fallimento, imparate a usarlo a vostro vantaggio. 4. Impegnarsi I vincitori si impegnano a vincere. Sanno quello che vogliono e quindi fanno tutto quello che devono fare per raggiungerlo. Cercate di impegnarvi e imparate a motivarvi per andare avanti. 5. Non procrastinare La procrastinazione è la ragione principale del fallimento. Non rimandate e cercate di fare le cose il prima possibile. In questo modo non solo si scarica lo stress, ma si guadagna tempo per fare altre cose per raggiungere il proprio obiettivo. La vittoria inizia con l'inizio. Robert H. Schuller 6. Visualizzare il processo I vincitori non sprecano tempo prezioso visualizzando solo l'obiettivo finale. Visualizzano il processo e le fasi coinvolte. Questa visualizzazione dà ai vincitori una visione e li aiuta a raggiungere la meta più velocemente. 7. Gestire il tempo Sfruttate al meglio il vostro tempo e imparate a essere più produttivi. Il tempo è molto prezioso. Chi vuole avere un buon futuro non sprechi il suo presente. Roger Babson 8. Concentrazione Non lasciate mai che la vostra concentrazione si indebolisca. La concentrazione è fondamentale per raggiungere la vittoria, poiché vi fornisce una spina dorsale o una base su cui costruire. Concentrate tutti i vostri pensieri sul lavoro da svolgere. I raggi del sole non bruciano finché non vengono messi a fuoco. Alexander Graham Bell 9. Imparare sempre Quando si tratta di vincere, la conoscenza è letteralmente potere e più si sa e meglio è. Camminate sempre nella vita come se aveste qualcosa di nuovo da imparare e ci riuscirete. Vernon Howard 10. Lavorare sodo La vittoria alla fine si riduce al duro lavoro. Maggiore è l'impegno profuso, migliori saranno i risultati. Quindi, se aumentate il vostro impegno, aumenterete notevolmente le vostre possibilità di vittoria. Il duro lavoro, unito alla determinazione, può farvi ottenere qualsiasi cosa nella vita. Grazie a tutti.